Nel video di oggi analizzeremo alcuni errori comuni che compiono gli uomini quando parlano con donne da cui sono attratti, e vedremo quello che puoi fare invece per smettere di essere noioso e diventare immediatamente più attraente. Lo faremo analizzando alcune clip di Craig Ferguson, così da ottenere reazioni del genere quando flirti. Anche se Craig ha dei vantaggi evidenti, come l'essere un presentatore tv, molte delle cose che fa possono essere compiute da chiunque. La prima abitudine da imparare, se vuoi essere più attraente, è smettere di pensare alle conversazioni come dei puri scambi di informazione. Invece dovresti concentrarti sul divertirti e creare delle connessioni emotive. E ci sono due semplici modi per farlo. Il primo è rispondendo alle sue domande con risposte divertenti, prima di dare la risposta vera. Eccoti un esempio veloce con Craig, così che tu possa vedere quanto è semplice. Specialmente quando incontri qualcuno per la prima volta, i primi minuti di una conversazione possono essere prevedibili. Cosa fai, da dove vieni, cose del genere. La maggior parte degli uomini risponde in modo diretto e noioso. Dando invece risposte divertenti, potrai distinguerti facendola ridere. Per esempio, guarda come Craig gestisce questa conversazione prevedibile in cui gli viene chiesto da dove viene. Eccoti ancora un esempio. E questa volta fai caso a come Craig cominci con la vera risposta per poi cambiare idea e passare ad una battuta. Se fai ridere qualcuno dicendo qualcosa di divertente o inaspettato, ti apprezzerà subito di più. È davvero semplice, basta dare una risposta ironica o palesemente falsa prima di dare quella vera. Un buon consiglio quando si flirta è introdurre le chiacchiere iniziali con delle battute e fare lo stesso con almeno il 25% delle risposte dopo quella. Questo non è fondamentale per costruire l'attrazione, ma è particolarmente utile se non sai come rispondere in modo interessante a quelle domande base come da dove vieni e che cosa fai. Un altro modo per trasformare le chiacchiere noiose in una conversazione divertente e ammiccante è rispondendo in modo giocoso alle sue affermazioni. Ora, la maggior parte degli uomini non risponde quasi mai in modo divertente quando parlano con qualcuno da cui sono attratti. Anzi, spesso commettono anche l'altro errore comune qui, essere fin troppo su di giri per ogni cosa che dice l'altra persona. Guardati queste clip per qualche esempio. Questo ragazzo sembra davvero molto carino, ma sfortunatamente, rispondendo solo in modo positivo, spesso non è abbastanza per costruire l'attrazione. Questo non significa che mostrarsi su di giri sia negativo. Infatti, nel nostro primo video su Craig, ci siamo occupati di come spesso interagisce con un'energia molto positiva. Ma quando reagisce a tutto quello che lei dice con un risponso troppo positivo, può essere fastidioso. Rischi di diventare prevedibile e a seconda di come parli potresti sembrare falso o disperato. Quello che distingue Craig e che porterà te allo stesso risultato è qualcosa chiamato push and pull. Mischia quella forte positività con una malizia giocosa che farà ridere entrambi. Per esempio, guarda come Craig passa dai complimenti allo stuzzicare nelle diversi parti della conversazione. E questo puoi persino farlo nella stessa frase, passando velocemente dallo stuzzicare ai complimenti. Sì. 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 Questo non significa che tu debba correre e inseguire ogni complimento dopo aver stuzzicato. Però tienilo a mente per non fare solo una delle due cose. E se non sai come stuzzicare giocosamente qualcuno quando flirti, puoi rubare un semplice trucco a Craig. Prova a dire frasi cliché che di solito vengono dette solo da donne a uomini. Questo tipo di gioco spontaneo può farvi ridere entrambi e ricontestualizzare la situazione come se fosse lei che ci prova con te. So show me what you got. No, you can't put me on the spot like that and say show me what you got. You gotta work up to it a little bit, buy me dinner and don't just run in and musk my hair. Come on. Jeff? I like your snake cup. Thanks a lot. Yeah, it's awesome, isn't it? Se tutto quello che farai è seguire i consigli dati finora nel video, ci saranno molte più donne che ti troveranno attraenti, ma c'è ancora una cosa che Craig fa nelle conversazioni per creare della chimica. Allora, non è obbligatorio, ma è una parte importante di ciò che rende Craig attraente, ovvero creare un ambiente in cui le donne si sentano al sicuro per flirtare e essere sensuali. Come ottimo esempio, guarda questa clip con la lottatrice MMA Gina Carano. Sta parlando con Craig da soli 5 minuti e puoi vedere che persino lei è sorpresa di ciò che è disposta a dire durante quella conversazione. Gina è chiaramente imbarazzata dalla battuta, ma è disposta a farla perché Craig l'ha fatta per primo. E c'è da dire che Craig è bravissimo nell'introdurre il sesso nelle conversazioni senza sembrare minimamente inquietante. Una ragione per cui non lo sembra è il suo ovvio comfort con l'argomento. Fai caso nelle due prossime clip a come il suo tono e il suo linguaggio fisico fanno capire che per lui parlare di sesso non è assolutamente strano. Qualcosa di davvero importante qui è come Craig non giudica e non fa vergognare le donne per la loro sessualità o i loro kink. Ora, siccome l'introduzione del sesso in una conversazione può far correre il rischio di essere inquietanti, la cosa fondamentale da fare è adattarti all'altra persona con il tuo atteggiamento e la direzione della conversazione. Un ottimo modo per testare l'argomento è con fraintendimenti volontari, così fraintendi volontariamente che sono loro quelle che parlano di sesso. Per un esempio veloce, ascolta Craig che parla della Scozia con Michelle. Puoi anche fraintendere giocosamente e fingere che qualcuno stesse parlando di sesso semplicemente facendo una pausa e guardandola in modo strano. Do you identify with downstairs people in Downton Abbey? You are servants or upstairs, we are rather terribly botched. Uhhh, I don't watch it, but I've been both upstairs and downstairs. Ora, una cosa che avrei notato è che Craig fa raramente battute sul fare sesso insieme. I suoi fraintendimenti giocosi introducono soltanto l'argomento del sesso in modo leggero facendola anche ridere. Poi lei può decidere di ridere basta e passare a un nuovo argomento o portare avanti la battuta e aumentarla. It's Valentine's Day, so you can square whatever you want. No, you can't! No, you can't! Cream, berries, anything goes. Anything goes. No, no, no. I... No, I'll have to ask for that next time. No, don't ask for it. It's very, very painful indeed. But I might like a little pain. Well, we're out of time here. I was so fast. No, actually... I mean, not fast, not fast, it's okay, don't be embarrassed. I was excited. Questo non significa che devi farlo per forza. È semplicemente un'abitudine che ha Craig e che funziona per lui. Vedi questo video come un set di opzioni per te, così che tu possa imparare ad essere più attraente nelle conversazioni. Imita Craig in qualsiasi modo ti sembri più divertente, finché non avrai costruito l'abitudine per abbassare i tuoi filtri, divertirti e trovare persone con cui ti piace davvero flirtare e a cui stare attorno. Detto ciò, ci sono molte cose in questo video e costruire nuove abitudini può essere difficile. Può essere molto complicato ricordare di mettere tutto ciò in pratica, specialmente se stai parlando con qualcuno che ti rende nervoso. Ecco perché abbiamo creato il nostro programma, la Carisma University. È un programma guidato passo per passo di 30 giorni, che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza, come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno e avrai anche a disposizione dell'action guide, così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale, con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderei di entrare nella Carisma University, avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrei andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche, ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice, prima di tutto ho amato il tuo corso, ho imparato diverse cose, ad esempio la lezione sui filtri nel modulo delle conversazioni, quella lezione ha cambiato completamente la mia vita. Mi piaceva una ragazza da un anno ormai, ma non ci avevo dato peso, perché temevo fosse troppo carina per me. Dopo le tue lezioni ci ho provato e ora usciamo insieme. La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice, ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice, mi ha cambiato la vita, in sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio.